Altri due modellini vi facciamo vedere. Vai pure Claudia. Claudia intanto va, io vi faccio vedere la nostra Auri che sta allacciando le nuovissime pigali con il nuovo abito jean con i cuoricini. Guardate che meraviglia. Ciao Katia. Tagnuccia ci saluta. Ben centai. Ciao. Ciao Maria Antonietta. Ciao Stefania. Come va? Ciao Rossana. Amore, un bacio da tutte noi. Ciao Maria. Ciao Claudia. E come va la sua in Germania? Guarda che bello questo nuovo embrace. Abbraccia tutto lo scollo. Davanti abbiamo fatto questa leggera... Abbiamo dato un pochettino più di volume al seno. Come lo vuoi? Tagnale, pigale. Hai visto che belle? Ciao Fernanda. Tutti i nuovi modellini. E il dietro si può allacciare col fiocchettino e c'è il motivetto sul dietro. Ciao Fernanda. Adesso arriva anche pronta la nostra Aurora. Poverto non è pronta. Ciao Federica. Fernanda. Ti presento la nostra Aurora. Che ha il nuovo completino. E no, veramente è l'abito. Ginstar in tulle doppiato. Ciao Federica. Ciao Katia. Ciao Stefania. La Tania voleva vedere le pigalli. gliele facciamo vedere. Girati. Di profilo. Wow. Guarda Tania come brillano. Hai visto? Sì, grazie. Mi fate emozionare. Ciao Giulia. Ciao Teresa. Eccoci qua. Vi facciamo partecipi visto che non sempre riuscite a venirci a trovare in showroom mentre facciamo la sfilata. Ciao Donatella. Oppa. Ciao Elisabetta. Adesso appena arriva siamo pronti. Arriva il fotografo. Ciao Matteo. E' andato a ricaricare le pile. Ciao Katia. Grazie. Ciao Irene. Ciao. Ciao Vincensina. C'ha solo lo spacco sulla gamba destra. L'abito Ginstar. Ti piace? Grazie. 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 Ciao Luisa. Ciao Teresa. Grazie di tutti i vostri cuori. Siete adorabili. Noi vi amiamo. Facciamo le cose belle per voi. Ciao. Ciao. Ciao Taniuccia.